Una risata e una lacrima. È la comicità toscana, sempre un po' surreale, che Atina Cenci ha saputo e sa portare in alto sia al cinema che in teatro. Un merito che all'attrice, storica componente del trio dei Gian Cattivi con Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, è valso il conferimento del primo premio stenterello nell'ambito della rassegna cinematografica curata dal comico Andrea Muzzi e dal quartiere 4 di Firenze. Sulla targa d'argento la maschera, emblema del carattere fiorentino e toscano, brillante e schietto come i ruoli interpretati da Atina Cenci. Quello che è stato fatto da Atina, il ruolo femminile che lei ha portato nella comicità, prima di allora non c'era, quindi lei ha portato una maschera comica nuova, nuova nel panorama. A rendere ancora più speciale l'omaggio ad Atina Cenci, l'abbraccio e il sorriso contagioso dello storico cantante e menestrello Narciso Parigi. Io la considero la più grande attrice che abbiamo avuto a Firenze, ma è la verità, ma non glielo dico perché siamo amici, glielo dico perché io la penso così. Una carriera costellata di cult, come speriamo che sia femmina, compagni di scuola e ad ovest di Paperino, ambientato in una sognante Firenze di inizio anni Ottanta e se le si chiede quale sia il film che ricorda con più affetto, Atina Cenci risponde così. Zitti Mosca, di benvenuti, la regia benvenuti, bellissimo perché io ho la persona che è politica, la verità. Sorrisi, ricordi e abbracci per un'attrice che della sua toscanità ha fatto e continua a fare un elemento inconfondibile e imprescindibile dell'arte cinematografica. Maremma assassina, ma quando finisce sta tortura? Non ce la faccio più!